amici e amiche bentornati sul mio canale anche oggi vi parlerò o di un film o di una serie tv o di un anime lo scopriremo insieme di che cosa vi parlerò tra qualche istante vi ricordo o ricordo a chi ancora non mi conoscesse che le mie recensioni sono suddivise in capitoli che trovate proprio qua sotto ogni capitolo va a trattare un argomento ben specifico per fare un'analisi tecnica per chi ne fosse interessato chi ovviamente non ha voglia di perdersi delle mie epaturnia può tranquillamente andare all'ultimo capitolo che è la trasposizione di una recensione canonica alla quale forse siete più abituati invece nei miei short di capitoli non ce ne sono in quel caso vi salvate allora vediamo un po di che cosa andiamo a parlare oggi siete curiosi di scoprirlo lo sapete già perché avete visto ovviamente la locandina del video allora non perdiamo altro tempo cominciamo e sono curioso di sapere alla fine attraverso i vostri commenti che cosa ne pensate smile 2 non è altro che un horror ovviamente del 2024 uscito qualche settimana fa mi pare intorno al 15 di ottobre in italia qualcosa del genere a me ovviamente dopo se non non starei facendo ora la recensione dicevo un horror che dura 127 minuti scritto e diretto da parker fine che secondo me ha fatto un buon lavoro già nel primo episodio altro non è ovviamente che il sequel di smile sempre diretto come ho già detto dallo stesso fin nel 2022 la trama è abbastanza semplice perché sei giorni dopo aver assistito al suicidio di rose cotter e aver ricevuto ovviamente la maledizione di questa misteriosa entità che ci viene mostrata alla fine del primo come un mostro muta forma quasi indegno da vedere la gente di polizia joel cerca di liberarsene dal momento che l'unico modo per farlo è uccidere qualcuno davanti testimone joel affronta due criminali con l'intenzione di ucciderne uno davanti all'altro ma ne deriva una sparatoria sanguinolenta dove purtroppo tutto va al contrario di come doveva andare tuttavia uno spacciatore lewis fragoli assiste casualmente all'accaduto ereditando di conseguenza la maledizione da lui fino ad arrivare alla pruripremiata pop star sky really il passo è veramente breve come vi dicevo lo ridico la durata di 127 minuti abbastanza importante uscito nelle serie cinematografiche mi sembra no il 17 di ottobre non il 15 chiedo scusa a tutti quindi all'incirca un mese fa da me è uscito molto dopo ho deciso di parlarne oggi perché a mio avviso merita almeno di essere recensito le interpretazioni di questi attori sono a mio avviso tutte tutte convincenti partendo ovviamente da nomi scott che già abbiamo visto nel film recensito come short presente su amazon prime video e da vita a sky relay effettivamente la sua interpretazione è una delle più convincenti tra una moltitudine di recitazioni convincenti il suo personaggio è sempre credibile sia nei momenti di lucidità che in quelli di maggiore sconforto quasi di assoluto delirio lei rimane sempre credibile ray nicholson che fa invece polazzon l'attore che l'accompagna durante un viaggio in macchina e che con lei subisce un incidente dal quale però lui non sopravvive è molto convincente ed è caratteristica o caratterizzante la sua risata che di fatto è finita in quasi tutti i poster diciamo che oltre a un'ottima recitazione quello per il quale sarà ricordato è una risata che ha veramente del malvagio una risata che solo il padre potrebbe emulare ma non è più così giovane da poterlo fare lucas cage o gage da vita agli west fregoli e la sua recitazione seppur breve è assolutamente convincente possiamo vedere tutta la follia dilagante degli ultimi giorni di delirio che lo accompagnano verso una morte certa rosemary dewitt invece fa la madre di sky ovvero elisabeth anche lei rimane un po più a noma un po più a nonni ma scusate ma anche perché la parte porta a questo mentre invece pet peter jacobs raul castiglio drew berrimore e mi e mails guttiere sarali insieme ovviamente anche a dylan gelula sono e a sosie bacon sono un po più marginali delle figure che sono molto convincenti quando le vediamo ma le vediamo talmente poco da non poter entrare nella nostra valutazione complessiva se non come mere e semplici comparsa onestamente io non conoscevo parker film prima di smile probabilmente anzi sicuramente un peccato mio però devo ammettere che se parliamo di regia scenografia fotografia colonna sonora ed effetti speciali in questo caso parliamo di un comparto veramente di spessore perché perché la regia innanzitutto è sempre credibile va veramente a catturare nelle immagini l'esasperazione del protagonista o dei protagonisti che sono afflitti da questa maledizione lo fa con sapienza lo fa attraverso anche dei flashback delle rimembranze o delle allucinazioni che li colpiscono in maniera veramente magistrale la scenografia che riproduce anche gli ambienti di scena di sky che è una una cantante di enorme successo sono ben azzecati sono realizzati con sapienza la fotografia per me è eccelsa veramente eccelsa perché ha una saturazione perfetta sotto ogni qualità di luce sotto ogni esposizione di luce è questo è sintomo di grande sapienza sa chi l'ha utilizzata chi l'ha messa in piedi lassà utilizzare veramente con maestria l'immagine è quasi sempre perfetta anzi diciamo sempre perfetta la corona sonora accattivante un prodotto quindi che vede nel comparto tecnico un'arte di alto livello gli effetti speciali che sono usati quasi in prevalenza o per l'incidente stradale oppure o per la riproduzione successiva dell'incidente stradale oppure per comunque scene sempre violente sono funzionali allo splatter che vanno poi a esprimere nelle scene violente rifatti troviamo molto più splatter rispetto al primo episodio troviamo scene ben girate con effetti speciali più impegnativi rispetto al primo episodio più incisivi peccato perché il mosto che ci viene mostrato alla fine è sempre quello e come ho già detto nella recensione di smile che ho apprezzato tantissimo peccato per il mostro finale perché va un po' a cozzare contro tutto quello che abbiamo visto in questo caso invece il finale non si limita al mostro va bene oltre forse ne parliamo dopo se ne ho voglia se reputo interessante farlo però va bene oltre ed ha un significato differente almeno un mostro fatto male che va a seccare la nostra protagonista quindi un comparto di estremo spessore che si dirama su tutte le foglie su tutti i rami disponibili con una regia solida una scenografia ancora più solida una fotografia perfetta una con la sonora eccerza e dei rifatti speciali fatti almeno dal mio punto di vista veramente bene peccato ogni tanto perché nei bordi per esempio quando c'è l'incidente all'inizio del buon joel agente di polizia e si vede che corre nella strada pochi secondi prima dell'impatto ci si rende conto che qualcosa sta per succedere perché se guardate le gambe i bordi delle gambe sull'asfalto non sono realizzati con sapienza e fanno capire che c'è dello schermo verde che c'è della computer grafica che qualcosa sta per succedere qualcosa di fatti succederà come ho già fatto intuire nei capitoli precedenti intuire scusate mi mangio un po le parole nei capitoli precedenti la storia della costruzione dei personaggi per me molto solito è vero che si parte da un deja vu però è costante nel seguire la storia che abbiamo visto di rose scott e successivamente di joel che passa attraverso lewis fregoli alla fine arriva a scairili e qua abbiamo il colpo di scena che nessuno si aspetta nel finale ne parlerò sì nella spiegazione del finale ho deciso di farlo però abbiamo una storia quindi che si sviluppa nonostante un argomento che è stato già trattato nel primo episodio un argomento che probabilmente per molte aveva poco da dire invece si trova ancora qualcosa da dire lo si fa con un po più classico un po più capacità con effetti speciali ben riusciti lo si fa cadendo ogni tanto nel banale perché inevitabile però cercando di scoprire delle strade nuove soprattutto in base all'arco narrativo cioè è comodo no fossilizzarci sempre sui soliti film e dire oddio cosa facciamo i vampiri lupi emanari cioè però ogni tanto è vero che anche in questo caso un po ci si fossilizza perché sempre di maledizione parliamo però sperando che poi il futuro capitolo innanzitutto sia l'ultimo e sperando che dia uno svolta particolare al prodotto perché ci sono i presupposti per farlo sia nel primo che nel secondo ad ora sia il primo che il secondo presentano pertanto una caratterizzazione dei personaggi solida è una storia bene costruita è chiaro che se poi nel terzo capitolo tutto venisse mandato a puttane da spiegazioni banali da qualunquismo dovremmo assolutamente rivedere anche probabilmente la storia dei primi due perché non essendo conclusivi ma il proseguo l'uno dell'altro e nemmeno questo conclusivo ma anzi l'evoluzione del primo spiegherò perché nella spiegazione finale probabilmente il terzo capitolo sperando come detto che sia l'ultimo farà un po d'ago della belancia comunque assolutamente smile 2 ottima storia ottima costruzione dei personaggi la spiegazione del finale è molto semplice pur presentando delle complessità perché dopo un tripudio di deliranti diciamo come dire allucinazioni la nostra buona sky si trova di colpo sul palco alla serata di apertura del suo turno diciamo ma eri davvero sì ahimè eri davvero difatti sua madre appariva tra il pubblico rivelando che tutto appunto quello dei giorni precedenti sono stati frutto di allucinazioni proprio estreme l'entità appare agli occhi di sky come una creatura mostosa che quella che vi dicevo quella che abbiamo visto purtroppo già nel primo capitolo che entra nel suo corpo la pop star sembra ovviamente crollare sul palco ma ahimè si rialza sorridendo per poi uccidersi impiantandosi il microfono nell'occhio ma come potete bene immaginare la maledizione viene trasmessa a questo punto non a migliaia perché lei è una postata a livello mondiale a milioni di spettatori a questo punto che cosa mai potrebbe o che cosa ci possiamo aspettare da smile 3 smette ci possiamo aspettare un contagio di massa però visto che quelli che poi sono afflitti dalla maledizione altro non fanno che seccarsi che uccidersi ma che questi fanno a uccidere altri questi si uccidono quindi è lecito immaginare che questo contagio di massa da questa maledizione porterà probabilmente alla sopravvivenza di pochi superstiti che si isoleranno per riuscire a trovare una soluzione per sopravvivere questa è la mia spiegazione del finale spero che qualcuno sia d'accordo con me quindi per concludere velocemente smile 2 on horror del 2024 scritto diretto da parker finché a mio avviso fa veramente un ottimo lavoro per la durata di 127 minuti uscito in italia il 17 ottobre del 2024 purtroppo da me è arrivato un filino dopo di fatto ho fatto una recensione solo ora la trama è semplice sei giorni dopo aver assistito alla morte o al suicidio per meno dire di rose cotter e ovviamente aver ricevuto la maledizione da questa misteriosa entità che ci è stata mostrata nel primo capitolo che purtroppo vediamo anche nel secondo l'agente di polizia joel cerca di cavarsi radidoso seccando una persona davanti a un testimone non ce la fa la maledizione passa allo spacciatore lewis fregoli che la passa la pluripremiata pop star sky rilei che arriva da un brutto incidente nel quale fra l'altro è perito il suo compagno di vita che altro non è interpretato dal film di jack nicholson una storia abbastanza intrigante secondo me che vede una regia una scenografia una fotografia delle effetti speciali con una colonna sonora sicuramente sicuramente avvincenti degli attori che offrono una recitazione molto molto convincente soprattutto i personaggi prevalenti no perché come ho già detto in prevalenza come ho detto in precedenza nomi scott e ray nicholson che fanno comunque due parti importanti hanno un'ottima recitazione come come la anche la a lucas gage le altre sono un po più delle comparsate però ottima recitazione trama costruzione dei personaggi e storia veramente efficaci per questo horror che nei 127 minuti vi accompagnerà verso un tragitto di allucinazione e morte passando per effetti speciali ben riusciti e una costruzione dei personaggi quasi sempre solida e chiaro che la storia ogni tanto cada nel banale perché sempre di maledizione si tratta perché in fin dei conti già avevamo visto molto nel primo capitolo ma cerca di innovare il genere lo fa con sapienza lo fa come può farlo al meglio che poi per me lo fa bene di fatti di don bell sette e mezzo come sempre vi ricordo se vi va canale commento vi piace iscrizione e campanella i vostri commenti sono sempre importanti un ciao da emi grazie a tutti